Ci stiamo avvicinando al nuovo anno e tantissime persone si stanno preparando ad un anno in cui veramente spaccheranno le pietre con le mani perché hanno in mente tanti di quegli obiettivi da raggiungere che veramente distruggeranno tutto. E quando inizieranno a fare questo? Ovviamente dal primo di gennaio o dal 7 di gennaio, magari subito dopo l'epifania. Però cosa succede? Che passati dieci giorni, a metà gennaio, già abbiamo perso la metà delle persone e l'altra metà la perderemo entro fine mese. E questa è una cosa un pochino triste ed è una cosa che però succede effettivamente a tutti. Solo una piccolissima parte, solo una piccolissima percentuale minuscola di queste persone riuscirà davvero a portare avanti i suoi obiettivi, a portare avanti i suoi impegni e finalmente realizzare quello che aveva in mente. Però quello che dobbiamo tenere a mente è questa, c'è una famosissima frase di Einstein che è veramente utilizzata tantissime volte che se facciamo quello che abbiamo sempre fatto otterremo quello che avremo sempre ottenuto e questo ovviamente è un dato di fatto. A me piace fare un esempio abbastanza banale. Se tu prendi un bicchiere di vetro e lo fai cadere per terra, questo bicchiere si rompe. Se tu lo rifai mille volte, non puoi sperare che questo bicchiere non si rompa se ovviamente le condizioni sono sempre uguali. E questo è quello che succede però nella nostra vita. Quindi se vogliamo ottenere dei risultati diversi, saremo costretti a fare delle azioni diverse. E questo vale sia in ambito aziendale, quindi che sia lavorare sul nostro prodotto, lavorare sul nostro brand, lavorare sul nostro marketing, sia nell'ambito personale, quindi integrare ad esempio all'interno della nostra vita una nuova abitudine. La mattina appena sveglio vado a fare una passeggiata di 20 minuti. Può essere una sciocchezza, ma sicuramente avendo inserito qualcosa di nuovo nella nostra vita, di conseguenza per forza succederà qualcosa di diverso. Magari arriveremo solo al lavoro più svegli perché avendo camminato un pochino, ci si è un pochino attivato tutto il cervello. Oppure quei 20 minuti in cui passeggiamo, ascoltiamo magari dei podcast, ci vengono in mente nuove idee. Oppure semplicemente respiriamo aria pulita e riflettiamo, ci vengono in mente nuove idee. Quindi effettivamente basta davvero un piccolo cambiamento per iniziare a ottenere nuovi risultati. Il punto però è questo. Dobbiamo iniziare a fare cose che non abbiamo mai fatto. Finché non ci entra questa nell'ottica non lo riusciremo a fare. Quindi la domanda che mi viene da porre a chiunque è questa. Vuoi cambiare davvero? Sei disposto a fare ciò che non hai mai avuto il coraggio di fare o che non hai avuto voglia di fare? Se la risposta è sì, allora probabilmente il 2020 sarà davvero un anno di cambiamento dove staccherai le pietre con le mani, altrimenti sarà purtroppo una replica degli anni passati dove magari sì, la tua vita è un pochino migliorata ma non sei riuscito ad andare a quella velocità che speravi. A me personalmente è successo per troppi anni, quindi è una cosa che mi tocca particolarmente, motivo per cui oggi registro la pillola su questo argomento e voglio portare proprio l'attenzione su questo. Se ti interessa veramente raggiungere nuovi obiettivi, nuovi traguardi, allora devi essere disposto a fare cose che non hai mai fatto prima. Che sia per pigriza, che sia per paura, non importa, sei costretto a farlo. Il mio consiglio, buttati, se non è una cosa in cui veramente se ti butti va male, sei rovinato, buttati. Perché davvero sarai costretto a metterti in moto una volta che ti sei buttato in acqua, sarai costretto a nuotare per non affogare, l'importante è che tu sappia nuotare. Per cui il mio consiglio per il nuovo anno, un pochino in anticipo, è proprio questo. Pensa se davvero hai intenzione di cambiare vita, se vuoi cambiare qualcosa nella tua vita o nel tuo lavoro e inizia a fare le cose che servono per riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao. Aggiungo. Voglio aggiungere una nota importante perché è una cosa che io facevo spessissimo e vedo fare davvero da tante e tante persone, ovvero quello di preparare una lista delle cose da fare per il 2020, o meglio per l'anno nuovo, esagerata. Devo imparare l'inglese, devo andare in palestra, devo perdere due chili, devo mettere su gli addominali, devo costruire otto business, devo svegliarmi due ore prima la mattina, devo leggere due ore al giorno, devo imparare anche il francese, voglio fare due settimane di vacanza all'anno, eccetera, eccetera, eccetera. È difficilissimo. Concentratevi sulla singola cosa più importante che vi permetterà di ottenere il primo cambiamento e poi successivamente inserite la seconda azione da fare, perché davvero, se partiamo su troppe cose diverse, sarà davvero difficile riuscire a portare avanti tutte queste cose insieme. Anche perché sono nuove, non siamo abituati, fuori dalla nostra zona di comfort, bruciano energie e davvero ci prosciugano lasciandoci senza più la forza di volontà necessaria per andare avanti a fare tutte queste cose. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!